Pensa che si sveglierà prima o poi? Chi può dirlo? E se accadesse dubito potrebbe piacergli la sua nuova vita. Le posso fare una domanda, dottore? Certo, chieda pure. Lei è favorevole all'eutanasia in casi senza speranza? Pensa al suo lavoro e non si scordi la fisioterapia. Certo. Il nostro compito è quello di fare di tutto per migliorare la salute dei nostri pazienti. Pensare ad altro compito dei filosofi, non il mio e non il suo. Arrivederci. Arrivederci, dottore. Grazie. 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 Grazie.